Questo programma è offerto da Tecnocampus Lunedì 18 marzo, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi a questa nuova rassegna stampa come sempre offerta da Tecnocampus Tanti fatti in primo piano in questa nuova settimana, in questo inizio di settimana che illustrerà appunto tutti ancora tutti gli elementi cardine del governo passando proprio per ciò che rende conflittuale questo nostro governo nei rapporti interni ma anche tanti fatti di cronaca proprio in primo piano cominciamo a vedere quelle che sono le realtà raccontate questa mattina da Il Fatto Quotidiano e vediamo che nella parte alta della pagina Zingaretti che cambia tutto, con abbraccio di Boschi, Lotti e Cianche, Renziani votano Gentiloni, presidente PD ed ancora le origini di Sanders da Luther King al socialismo USA l'inchiesta di Mediapart sul leader della sinistra intanto vediamo che ieri Salvini è stato in Basilicata e vediamo nella parte alta contestato per due giorni consecutivi perde la pazienza dal palco e inveisce contro chi gli sta remando contro prima o poi capita a tutti e la piazza è questa la bellezza titola proprio così oggi Il Fatto Quotidiano e racconta di come questo ministro, il vice premier Salvini si trova in difficoltà di fronte a una piazza che in parte lo acclama in parte lo contesta e ricorda anche che comunque gli atteggiamenti sono quelli che contano e poi alla fine si lascia andare e ancora vediamo nella parte centrale della pagina di carte, si parla di cronaca nell'apertura di questa giornata Iman così il siriano mi offriva soldi per ritrattare le accuse a Berlusconi il racconto della Fadil, morte forse avvenenata prima di deporre a Rubiterra e infatti continuano così le indagini per omicidio volontario la procura vieta i parenti di vedere il cadavere all'obitorio e riesaminano i verbali fra cui quelli sul misterioso uomo medio orientale che la avvicinò per convincerla a rimangiarsi le accuse al Caimano il nostro cronista ha visitato la cascina faticente dove viveva negli ultimi tempi insomma una vera e propria inchiesta proprio su questo argomento che ancora è libero da tante pubblicazioni anche perché comunque ci sono tante ancora interpretazioni e soprattutto ancora non c'è la certezza su questa morte ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo nella parte interna della pagina PD Forza Italia Lega, i maxibuchi dei partiti e ancora vediamo la seconda storia di copertina Orchintonaca, pensate un po' le suore stuprate dai sacerdoti racconti di missionari e monache violentate dai preti in Africa ed in Europa e costrette poi ad abortire in un documentario francese i silenzi e le coperture della chiesa la scaraffia sono queste quelle che vengono raccontate come le nuove schiave o probabilmente semplicemente schiave antiche ma di cui finora si era taciuto e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ancora cronaca di Amarenco Arbore Mario era l'umorista del numero uno del secolo e nella parte bassa della pagina si parla ancora di clima e dello sciopero che c'è stato venerdì 15 marzo il potente missaggio dei giovani agli adulti saremo diversi come Greta il mondo salvato dai ragazzini era questa la visione profetica che dal titolo al celebre libro di Erza Morante del 1968 non è mai stata così vicina ad avverarsi quel libro conteneva, scrisse Pasolini tutte le ossessioni del mondo moderno l'atomica, la morale dei consumi il profondo desiderio di autodistruzione oggi che quelle ossessioni, soprattutto la seconda e la terza tra loro mai ormai indistinguibili ci hanno condotto a due passi dall'apocalisse i ragazzini hanno preso la parola una parola piena di saggezza e lungimiranza il problema grande è però se questa parola non ha un seguito o meglio, se oltre queste manifestazioni e oltre quello che è stato veramente un movimento di massa non seguono altre azioni perché la realtà è questa si può andare in controtendenza si può ribaltare tutta la situazione pessima in cui il mondo si trova attualmente ma bisogna partire dai piccoli gesti per poi arrivare a quelli grandi e proprio dai più giovani ma con l'esempio degli adulti si può arrivare lontano semplicemente agendo e ancora questo cerchiamo di vedere se effettivamente si può verificare oppure siamo ancora in alto mare e ancora ci spostiamo sul libero nel centro-destra stupore e rabbia Berlusconi adesso fa il duro e ancora vediamo ennesimo insulto di Silvio agli italiani favorevoli alla maggioranza non possiamo vedere nel titolo quindi la condanna a chi sta col governo alla maggioranza giallo-verda e intanto Salvini polemizza allora sono fesso anch'io che dice faccio parte dell'esecutivo e ancora che c'entra il cavaliere l'oggettina morta viveva tra i topi in miseria totale anche qui si parla appunto della donna morta e di cui si sta tanto discutendo ancora nella parte centrale della pagina Crusetto resto in politica ecco quel che c'è tra me e la Meloni mollo del Parlamento non conta più nulla e nella parte più bassa i programmi economici della Liga vittoria alle europee e poi flat tax e nella parte bassa della pagina donne con il vizietto signora seduce 14enne e si droga con lui un'altra quarantenne va con l'amico della figlia insomma sempre più notizie di donne grandi che non stanno con giovanissimi ma molto di più ossia parliamo 13-14 anni questo è un discorso che riguarda l'età sempre più giovane si va quasi verso il mondo infantile che non quello degli adolescenti insomma una vera e propria movenza verso questo mondo ma non si riesce ancora a capire per quale ragione insomma tante possono essere le polemiche che riscontrano queste vicende ma in breve tempo questo è già il secondo caso e ancora vediamo il volontariato raccontato da Carlo Verdone che dice regalo risate ai malati terminali è lui il re della commedia l'attore e il regista che ha segnato e ha sognato di raccontare con cura i suoi film e che cosa ha fatto? Ha fatto appunto questa cosa l'ultimo tratto della vita di chi comunque già sa che se ne andrà perché ha una malattia incurabile o comunque sta avendo sofferenze in mani e ovviamente che cosa fa il Verdone si dedica con tutta l'anima e con tutto il corpo a farli ridere perché come ben sappiamo la risata la capacità di far sorridere e di tirar fuori tutto ciò che dal corpo può emergere e facendo rilassare proprio questo corpo può essere utile sia per chi comunque è in salute ma anche e soprattutto per chi si trova a vivere in una situazione così complicata come una malattia insomma la risata ci salverà e ovviamente ci salverà sempre di più nel momento in cui sapremo anche noi stessi ridere e farci ridere e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo su il tempo un poker bianco celeste che sta ad Europa partiamo proprio con lo sport Lazio sul velluto contro il Parma vince il 4-1 e torna in corsa per i posti qualificazione intanto l'apertura rottamazione beffa cartelle riaperte sentenza della consulta pulisce le società scorporate da Equitalia niente proroga adesso si rischia l'effetto domino su chi ha saldato per il periodo tra il 2001 e il 2006 e intanto vediamo ancora scendiamo nella prima pagina Scintille Salvini Cavaliere pure io dice visto che comunque il Cavaliere ha offeso gli italiani che seguono il governo allora anche il ministro Salvini si è sentito offeso beh beh questa è la domanda che pone al Cavaliere queste sono le domande che questa mattina costellano i quotidiani nazionali ancora intanto vediamo i mille costretti a spostarsi ancora una volta si parla di sanità e questa volta nel Lazio per la dialisi a quanto pare si emigra e i furbetti pizzicati alla romanina mobili nei cassonetti trasportatori multati e ancora vediamo nella parte bassa della pagina anche qui si parla dell'attore scomparsa da 85 anni protagonista con Arbore e Boncompagna Dio Marenco genio della risata e si continua proprio a parlare di chi ha fatto tanto ridere gli italiani ma non solo e ancora ci spostiamo su il giornale vediamo nella parte alta della pagina pugnalata a Salvini titola Di Maio sabota la Flex Tax Tria costa 60 miliardi Lite Lega Movimento 5 Stelle anche sul Def cartelle Boomerang rottamazione intanto al rischio ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina la Jeep del grillino Notab la crescita felice del ministro Toninelli si compra il SUV ma intanto rischia la poltrona ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano la procura blinda il cadavere della modella la finta super test che titola proprio il giornale in questo mondo non sapeva nulla Sgarbi la Fadilla d'Arcole solo a cena si è fatta dei film e intanto vediamo nella parte bassa della pagina il vignale l'immigrazione sbarchi azzerati ma i rimpatri restano pochi intanto vediamo il caso in Afghanistan il giallo dei paramorti in missione genitori in campo ancora continuiamo a vedere le altre notizie su questa prima pagina eccoci qua vediamo affari e ipocrisia 6 milioni arabi sono indecenti solo alla scala e nella parte sinistra della pagina l'editoriale ha affidato questa mattina a Paolo Guzzanti il discorso di Zingaretti e parla di PD il PD diverso e la maionese delle banalità e infatti è così che viene proprio raccontato questo insediamento da parte di Nicola Zingaretti alla guida come segretario del PD e viene raccontato proprio dal giornale come un qualcosa di irreverente e ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica due leggi per le donne titola proprio così ed ecco qua che vediamo quali sono queste leggi ministro 5 Stelle e Buonafede violenze e stalking pene più alte il convegno leghista di Verona però indietro di qualche secolo e intanto anche qui vediamo l'inchiesta sempre su Iman Fadil la pista marocchina 25 medici per cercare di salvarla la procura ha vietato anche i parenti avvicinarsi al suo corpo e intanto per quanto riguarda la politica le prime scelte del PD di Zingaretti Gentiloni e Salvini il nostro avversario e intanto nella parte bassa della pagina Sport Inter che derby anche senza i car di sconfitto il Milan e i Bua che si è e intanto nella parte bassa della pagina ancora si parla di Cronaca la carovana che fugge dai narcotrafficanti e nella parte destra della pagina eccoci qua l'obiettivo delle elezioni anticipate e infine l'utile tregua fra governo e Banca Italia e ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo adesso sulla stampa di Torino andiamo a vedere quelli che sono i fatti raccontati questa mattina nella parte alta si parla di Juve primo capo in campionato l'Inter batte in Milan e sale al terzo posto e motori Salone di Ginevra uno speciale di 24 pagine mentre la Formula 1 vediamo che la Ferrari delude al debutto Domino Mercedes in Australia intanto nella parte alta della pagina no grillino a Salvini la flat tax familiare è un blef elettorale i dem votano Gentiloni presidente e Zingaretti mette due donne ai vertici infatti il Movimento 5 Stelle boccia la proposta reghista di introdurre una flat tax per le famiglie costa troppo è una promessa alla Berlusconi e rilancia ridurre a scaglioni e pressione fiscale e il PD vota Gentiloni presidente intanto Zingaretti nel partito deve cambiare tutto e quello che viene titolato proprio in questa pagina un nuovo PD che superi le correnti e intanto sul DEF pesa la crescita che in realtà non c'è nella parte centrale invece vediamo un'immagine piuttosto eloquente che ci lascerà ovviamente tutti a bocca aperta perché parliamo di Asti Cunio e il premier in visita all'autostrada in compiuta infatti la vediamo qui e ancora vediamo le altre notizie nella parte bassa della pagina addio Marenco spalla di arbore gli stati generali del rap che cambia insomma due notizie diverse che riguardano comunque il mondo dello spettacolo eccolo qua un irregolare dello spettacolo Mario Marenco morto a 85 anni all'ospedale Gemelli di Roma e il sorriso si nascondeva il dispetto che faceva se stesso intellettuale persona seria stimato per quell'altro io che esercitava con passione insomma le due facce di una medesima persona e intanto vediamo Ghe Pechegno e un rap tosto come 17 artisti che lo hanno salutato accompagnato e supportato in un forum di assago strapieno che durante questo concerto che ha dedicato innanzitutto al padre morto dopodiché anche al resto della famiglia tutte le persone che lo amano insomma ha tirato tante persone in un vortice di musica e facendo quello che sa fare meglio ossia la musica e per quanto riguarda le prime pagine quotidiane nazionali facciamo una piccola pausa vi lascio a qualche attimo di pubblicità ma ritorniamo subito dopo grazie a tutti grazie a tutti all'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista a pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro e di nuovo in studio pronti per affrontare quelle che sono le tematiche di questa mattina sulle principali testate nazionali e continuiamo sfogliando la prima pagina del Corriere della Sera vediamo che in apertura si parla di Flat Tax Salvini alza la sfida Tria accelera sul piano investimenti il dossier sulla spesa pubblica 6 miliardi di sprechi in 18 mesi il leader leghista ora va estesa alle famiglie si riferisce proprio alla Flat Tax e Di Maio no ha promesse alla Berlusconi la Lega infatti torna a spingere per la Flat Tax il vicepremier Matteo Salvini chiede che nel 2019 venga allargata anche alle famiglie ma l'altro vicepremier Luigi Di Maio frena no ha promesse alla Berlusconi ma ci accorderemo con la Lega secondo il Tesoro l'operazione costerebbe 59 miliardi in pratica tre finanziarie anche il ministro dell'economia Giovanni Tria accelera sul piano investimenti per evitare una manovra bis nel piano sono previsti sgravi alle imprese cessione di immobili pubblici e cartolarizzazione 6 miliardi di sprechi in 18 mesi e quanto emerge dal dossier sulla spesa pubblica intanto andiamo dall'altra parte dall'opposizione Gentiloni Presidente Zingaretti e il PD cambiare tutto e apre agli ex infatti dice bisogna cambiare tutto e a dirle proprio Nicola Zingaretti all'assemblea del PD neosegretario traccia le linee per un partito nuovo aperto agli ex PD a cominciare dai bersaniani Gentiloni eletto presidente del partito unica voce critica quella di Giacchetti e intanto Renzi assente ha fatto gli auguri via Facebook e ancora vediamo nell'editoriale questa mattina di Francesco Giavazzi investire di più poi il resto le ragioni indicate dal governo per spiegare i benefici di un accordo commerciale con la Cina maggiore apertura nel mercato cinese alle nostre esportazioni e possibilità di investimenti di Pechino in Italia tradiscono ovviamente una scarsa conoscenza della situazione macroeconomica nel nostro paese perché l'Italia ha un eccesso di risparmi pari a circa 45 miliardi l'anno questo vuol dire che nel 2018 le famiglie italiane hanno risparmiato circa 45 miliardi di euro più di quanti ne siano stati impiegate nelle imprese per investire dallo Stato per finanziare il deficit pubblico questi 45 miliardi li abbiamo investiti all'estero acquistando imprese e attività finanziarie in altri paesi insomma poiché in qualche modo il risparmio va utilizzato se investiamo poco in Italia significa che dobbiamo investire di più all'estero quindi i numeri dicono che ci sono molti motivi per cui i nostri investimenti ristagnano e che la questione non è la scarsità di risparmio al contrario una situazione la nostra molto diversa ad esempio da quella degli Stati Uniti dove c'è un difetto non un eccesso di risparmio e questo porta gli USA a indebitarsi con il resto del mondo pensate che l'anno scorso per una cifra pari quasi 500 miliardi di dollari l'America si è indebitata e ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano passiamo alle notizie sportive e vediamo che si parla di campionato tutto italiano e nero azzurro infatti vincono 3 a 2 e risalgono al terzo posto infatti l'Inter risorge nel derby sorpasso Champions e batte il Milan per 3 a 2 in una gara combattuta fino all'ultimo minuto i nero azzurri scavalcano i rosso neri al terzo posto e si rilanciano per la Champions e vediamo infatti nella foto l'esultanza dell'Inter e ancora vediamo nella parte destra Scala e Fondi Sauditi Fontana accusa Pereira andrebbe licenziato oggi il CDA infatti il comportamento di Pereira provocherebbe il suo licenziamento in qualsiasi consiglio a qualsiasi latitudine il governatore della Lombardia Tilio Fontana attacca infatti il sovraintendente della Scala che ha fatto depositare in via cautelativa presso un notaio una tranche di fonti sauditi e questo prima della riunione del CDA che è comunque prevista per la giornata di oggi insomma ancora tanti dibattiti ma soprattutto tante polemiche per le situazioni sempre più sibilline che si trovano proprio nella nostra Italia ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo adesso sul mattino ed andiamo a vedere che cosa racconta soprattutto i fatti come vengono portati alla luce e vediamo nella parte alta della pagina si parla anche qui dell'inchiesta il giallo di Iman la pista del cobalto il PM quel corpo assolutamente non va toccato e intanto vediamo che anche qui lo spettacolo il lutto Marenco il poeta della risata surreale arbore dice genio puro e infine le tendenze birra la rivincita a tavola sul vino perché non è più la bevanda povera anzi viene considerata nella sua molteplicità sfaccettature e soprattutto secondo gli studi più recenti sembrerebbe allungare la vita quello che ci interessa ovviamente non è tanto allungare semplicemente la vita ma renderla sempre più bella e ancora vediamo nella parte centrale della pagina il governo diviso che blocca il rilancio cantieri e crescita scontro lega movimento 5 stelle e i decreti rischiano di slittare ancora Zingaretti questo PD ovviamente tutto da rifare e commento la settimana più calda della commedia degli equivoci e vediamo intanto lo scenario rete e circoli la svolta DEM dalle parole alla realtà e intanto nella parte centrale della pagina si parla di campionato e anche qui vediamo quanto è accaduto ieri nel Napoli che ha vinto contro l'Udinese ma intanto tutto si ferma per uno spamento causato dal portiere Ospina che non è stato sostituito dopo una botta alla testa e mentre stavano giocando all'improvviso sviene in campo ora sta bene con le assist e il gran ritorno di Mertens il Napoli trema per il portiere Ospina ha infortunatosi alla testa e poi è rimasto in campo fino allo svenimento il portiere colombiano è stato ricoverato le sue condizioni non sono gravi e il Napoli gioisce battendo l'Udinese per 4 a 2 guidato da Mertens autore di un gol con Iunès Caleglion e Milik e intanto c'era una volta la difesa blindata è quello che racconta Francesco De Luca lo spavento è stato fortissimo vedere Ospina accasciarsi sul campo alla fine del primo tempo ha tolto il fiato a 26.000 spettatori presenti al San Paolo e intanto medici e soccorsi il doppio errore San Paolo infatti ha tremato quando Ospina ha perso i sensi ma perché il portiere colombiano è rimasto in campo dopo l'incidente e la perdita di sangue questo è quello che questa mattina emerge proprio da queste pagine per quale ragione non è stato fatto uscire il portiere questa è la domanda che rivolge ai lettori ovviamente ma in primo luogo a chi gestisce questa situazione e lasciamo con questa domanda lasciamo che decanti nel corso della giornata ed ancora vediamo nella parte destra della pagina all'analisi parliamo del bene comune ridotto a uno slogan e infatti Giuseppe Galazzo diceva che i problemi di Napoli sono il frutto di un'accumulazione storica che prende forma tra il XV e il XVI secolo e ancora oggi non sembra aver sciolto i propri nodi mentre città come Milano e Torino hanno problemi risalenti grosso modo all'ultimo secolo tuttavia se permangono anche le contraddizioni gli ultimissimi sono stati caratterizzati da nuovi e vehementi conflitti tra istituzioni e mondi che invece dovrebbero contribuire a ricostruire il tessuto morale economico sociale della città una fotografia che è stata focalizzata nel reportage di Gigi Di Fiore sulle pagine ieri del mattino a Napoli sono tutti contro tutti questa è una realtà incontrovertibile sembra proprio che sia questo il punto nodale e comunque il punto focale di quella che è una vicissitudine che ci rende sempre più in rotta di collisione l'uno con l'altro e che non ci fa né avanzare né crescere proprio l'essere tutti uno contro l'altro nonostante si dica che comunque il napoletano è di cuore nello stesso tempo c'è questa lotta continua proprio tipica degli animali per conquistare il territorio infine vediamo nella parte bassa della pagina la denuncia del manager Verdo Oliva e la Camorra il vero cancro degli ospedali napoletani dalle blatte nei bagni dei pellegrini al ristorante e bar abusivi del San Giovanni Bosco dal parcheggio non autorizzato alla doganella alle sacche di illegalità che fanno degli ospedali territorio di caccia per il sottobosco criminale una denuncia inquietante e importante che è stata fatta proprio da questo manager e ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano ci spostiamo sulla parte economica vediamo Italia Oggi Best Practices per la giustizia giudici e avvocati di Milano firmano infatti un protocollo per rendere più veloci e trasparenti i processi in materia di famiglia un modello che a questo punto farà scuola così racconta appunto Italia Oggi e intanto nella parte centrale della pagina Cyber Risk la strada è in salita un sondaggio Bruce Wick fra i componenti di Cerro livella infatti che le azioni delle aziende sono assolutamente poco incisive e ancora continuiamo proprio sul tema dell'economia andiamo a vedere il sole 24 ore che stamattina ci mostra le pagelle fiscali debutto al buio per 3,8 milioni di partite IVA il passaggio addio agli studi di settore ma i nuovi indici ISA attendono le norme d'attuazione si parte senza sperimentazione e intanto il premio è il punto chiave ancora mancante la riduzione di adempimenti obblighi in base al voto di affidabilità del contribuente ed intanto nella parte centrale della pagina il bonus casa che ora punta sulla cessione mentre vediamo per quanto riguarda i permessi regolamento edilizio tipo tutte le scelte a livello locale ed infine nella parte bassa della pagina rendito da sud oltre il 50% di richieste ed infine la valutazione all'università si riesamina più qualità che algoritmi ed infine andiamo a vedere le altre notizie ci spostiamo adesso su quelle che sono le notizie in ambito sportivo ci spostiamo infatti su tutto sport dove vediamo che titola così nella parte alta della pagina Juve per azione d'elite dopo il primo capo in campionato contro un grande Genoa i bianconeri puntano sul gioiello Ajax e all'interno di queste pagine la strategia di Paratici intanto nella parte centrale della pagina la risultanza dell'Inter un urlo a San Siro Inter un derby spettacolo chiude degnamente un weekend all'insegna dei gol 42 in totale l'Inter risorge e ripassa e risorpassa il Milan al terzo posto assegno vecino De Vrij Bakayoko Martinez su rigore e Musacchio intanto Rissa tra i rossoneri Cassi e Biglia ed infine vediamo nella parte destra della pagina il Formula 1 da GP d'Australia alla Ferrari suona l'allarme e continuiamo a vedere ancora i mondiali di Biathlon e Windisch è un'Italia proprio d'oro ancora vediamo la parte sportiva ci spostiamo sul Corriere dello Sport Juve cotta e mangiata dopo 24 vittorie e tre pari arriva il primo capoio in questo campionato la firma il Genoa con Sturaro e Pandeva e Allegri eravamo scarichi questa è la giustificazione che dà appunto il CT in relazione a questa perdita e a questa partita finita in negativo ed ancora Napoli prima tanta paura poi sale a meno 15 Ospina in ospedale Udinese però battuta per 4 a 2 e intanto nella parte centrale della pagina riamala Inter Derby a sorpasso ritrova i tifosi e aspetta Icardi emozionante 3 a 2 al Milan con l'autaro protagonista Biglia Chessi Rissa in panchina Gattuso Furioso faremo i conti Caso Maurito verso la soluzione l'incontro decisivo intanto si terrà venerdì e per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali è tutto vi lascio a qualche attimo di pubblicità ma non andate via ritorniamo subito dopo Grazie a tutti Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro e siamo ancora una volta in studio pronti però adesso per andare ad esaminare insieme quelli che sono i fatti che ci riguardano più da vicino perché sono i fatti che riguardano terra di lavoro ma anche tutta la regione Campania infatti partiamo proprio dalle notizie che riguardano Napoli e vediamo che si parte con una notizia di cronaca la villa comunale è riaperta tra i rifiuti l'assessore Borriello la SIA non ha rispettato gli impegni e vediamo infatti di che cosa stiamo parlando l'assessore al verde Ciro Borriello è stata riaperta a una villa comunale in base da rifiuti non era meglio rimuoverli un'intervista che viene fatta proprio all'assessore da Repubblica posso spiegare l'abbiamo riaperta senza battere ulteriori alberi risolvendo computature purtroppo la SIA aveva un problema sindacale prima ha preso l'impegno della rimozione e poi non l'ha rispettato esprimo profondo disappunto quindi si dice si interroga proprio il quotidiano la Repubblica dunque la colpa è dell'Asia attraverso un momento di grande difficoltà e ancora la domanda è proprio questa perché riaprire questo parco se in realtà non c'era stata una soluzione è meglio il parco aperto con qualche rifiuto che è chiuso questa è la risposta che ha dato appunto l'assessore Borriello all'intervista che è stata fatta in maniera molto accesa dalla Repubblica e ovviamente la polemica è proprio su questa villa comunale che rappresenta un polmone verde ma nello stesso tempo anche uno schiaffo a quella che è la cultura della legalità della pulizia e dell'ordine visto che è stata riaperta nonostante l'incuria che evidentemente regnava sovrana ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano Gabriele Zuchtriegel basta con i social c'è troppo odio mi cancello da Facebook a parlare il direttore degli scavi di Pestum torniamo a incontrarci a leggere i giornali sono rimasto impressionato dalla strage in Nuova Zelanda infatti dice non voglio più far parte di una rete che dissemina odio e violenza e che sostituisce il dialogo vero con LinkedIn emoticon ho cancellato il mio profilo Facebook personale e chiude proprio col più importante dei social network proprio il direttore degli scavi di Pestum che da ieri non esiste più nell'universo digitale creato da Mark Zuckerberg una scelta consapevole all'indomani del tragico attentato in Nuova Zelanda dove il terrorista ha pubblicato in diretta internet i suoi assassini non intendo assistere più a una tale caduta dei valori umani è una situazione dice allarmante e questa purtroppo è la realtà a cui siamo ormai abituati Facebook ci fa vedere tutto come se fossimo in una grande bolla dove tutto è proprio inteso come un mondo virtuale dove sembra quasi che tutto sia un gioco qualcosa di fittizio anche i video non sembrano realtà ma sembrano proprio dei videogames in cui siamo noi i protagonisti e stiamo gestendo tutto ciò che avviene il problema però grande è che questi videogame che noi crediamo essere tali in realtà non lo sono ma è proprio la realtà come nel caso della Nuova Zelanda e sull'esempio di questo direttore degli scavi archeologici di Pestum probabilmente in molti faranno lo stesso e ancora vediamo le altre notizie in primo piano Napoli Capodimonte l'appello dei cento i beni culturali sono di tutti artisti professori universitari imprenditori volontari uomini del cinema di teatro tutti in campo per Silvano Belanger da quel no al presto le sette opere di misericordia infatti intendiamo esprimere il nostro dissenso nei confronti della concezione elitaria e conservatrice della cultura manifestata da alcuni interventi nel dibattito scaturito a proposito dell'autorizzazione al prestito delle sette opere della misericordia da parte del Pio Monte in favore del Museo di Capodimonte negata nonostante lo spostamento del dipinto fosse stato ritenuto sicuro dai due enti e dalla competente sopraintendenza l'attuale politica culturale del Museo di Capodimonte ispirata a coniugare rigorosi criteri scientifici con intenti di apertura alla cittadinanza oltre che di sinergia tra le diverse istituzioni napoletane esprime a nostro avviso la più alta funzione dei beni culturali che è quella di promuovere la crescita spirituale delle comunità superando la falsa contrapposizione tra tutela e valorizzazione ancora una forte diatriba e soprattutto un forte contrasto e una spaccatura tra il governo centrale e quella che è la cultura che viene proprio dai musei napoletani proprio in relazione a queste opere per cui non si è riconosciuto il diritto a spostarle per una manifestazione che coinvolgerà tantissime persone e quindi potrà permettere la conoscenza a un vasto pubblico e ancora se ne parla ma soprattutto ancora si discute e ancora ci spostiamo sulla cronaca il fatto delle ultime ore la tratta degli schiavi di Salerno blitz nella notte raffica di arresti e infatti dalle prime ore della mattina in vari comuni della provincia di Salerno e in altre località del territorio nazionale in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Salerno e infatti vediamo circa 200 militari con l'ausilio di unità cinofile e supporto aereo stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelarie messa dal GIP del tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale anti-mafra e mafia nei confronti di persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina riduzione in schiavitù tratta di persone e altro con l'aggravante del reato trasnazionale ed ancora continuiamo a vedere le notizie che arrivano da Napoli ancora cronaca pasticcio cimiteri questa volta luci votive spente e scoppia la rivolta lo sappiamo quanto i napoletani siano legati proprio ai morti ai propri morti e quindi ovviamente sappiamo quanto sia possibile una polemica forte e soprattutto uno scontro perché la brutta sorpresa è arrivata dopo le 8 del mattino di ieri all'apertura dei cancelli delle congreghe cimiteriali napoletane e i parenti dei defunti sulle prime pensavano ad un guasto dei sistemi elettrici le luci eterne sistemate dinanzi ai marmi delle tombe risultavano infatti dispente ci è voluto poco per capire che non si trattava di un calo di tensione improvviso ed è toccato agli incolpevoli custodi delle strutture dover spiegare che cosa in realtà fosse successo le forniture non state deliberatamente staccate è bastato tanto a creare una rivolta generale con urna minacce e tensioni da parte di chi aveva regolarmente già pagato la quota annuale e magari anche quelle arretrate e intanto è scoppiata proprio la bagarre per questa vicenda che ha spento la luce proprio nel luogo ripeto che per i napoletani è considerato quanto più importante ovviamente per i propri cari nella vita di chi comunque è ancora sopravvissuto e ancora vediamo le altre notizie in primo piano si parla di teatro San Carlo in campo la città metropolitana non servono tagli pronti 4 milioni a dirlo De Magistris il primo cittadino della città e infatti non solo c'è la quota fissa da 2 milioni e 200 mila euro ma per la prima volta la città metropolitana mette per il San Carlo un milione e mezzo aggiuntivo per salvare il corpo da ballo in totale sono 3,7 milioni e sono almeno altre tanti motivi che hanno indispettito tecnici consiglio metropolitano e il sindaco De Magistris rispetto all'uscita del sovrintendente Rosanna Purchia non una nuova a certe prese di posizione l'ultima appunto quella di additare l'ex provincia come ente insolvente verso il massimo napoletano e dunque causa dei guai finanziari del San Carlo dove in verità il flusso di finanziamenti è sempre cospicuo e ancora ci spostiamo sulle altre pagine dei quotidiani nazionali chiedo scusa locali e andiamo a vedere i fatti che riguardano Caserta e la sua città e vediamo ancora una notizia di cronaca che ieri ha proprio fatto il giro della città perché riguarda la squadra di calcio e ancora una volta ciò che è accaduto ha dell'incredibile infatti vediamo un'immagine in questa prima pagina di Caserta News che riguarda proprio il pronto soccorso e infatti di due carabinieri feriti il bilancio del pomeriggio di follia vissuto allo stadio pinto di Caserta al termine dell'incontro tra Casertana e Viterbese che si è concluso con la vittoria per quattro attire per gli ospiti si è assistito a momenti di tensione tra i supporter delle due squadre con lanci di oggetti tra le tifoserie per evitare il peggio sono intervenuti i carabinieri servizio d'ordine allo stadio che hanno cercato di disperdere la tifoseria ospite e riportare la calma proprio nel momento dell'uscita dei tifosi di tutta risposta gli ultras della Viterbese hanno aggredito i militari due dei quali sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale civile Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e ancora vediamo ci spostiamo sulla parte politica di queste pagine online e vediamo PD Velardi sfida colpi di comunicazione la crisi in comune tra manifesti e messaggi vocali e adesso si arriva proprio al culmine e infatti la strategia del sindaco di Marcenese Antonello Velardi è chiara dimostrare che quello che porterà alla rottura nelle prossime settimane non sono i temi delle tasse bensì altre questioni legate più a vicende politiche come i rappresentanti in giunta ed anche la rimodurazione di alcuni uffici e così la sfida tra il sindaco e il partito democratico si è manifestata a pieno mentre i democrat facevano affliggere per la città un manifesto in cui spiegavano che i motivi della rottura con il resto della maggioranza erano legati all'aumento delle tasse e dalla volontà di esternalizzare il servizio di riscossione il sindaco ha inviato il messaggio a tutti i cittadini col servizio pre-registrato in cui annunciava che gli aumenti non ci saranno e insomma una battaglia proprio fatta con le tecniche più moderne mentre c'è chi rimane al manifesto insomma vedremo ancora che cosa accadrà e intanto vediamo un'altra brutta notizia di Colonaca che ha riguardato l'intera città di Caserta ieri ha lasciato sgomenti tutti questa notizia secondo cui si lancia dall'acquedotto Carolino un biglietto trovato nell'auto della maestra una 47enne che ha lasciato un messaggio chiamato mia sorella il suo corpo restituito poi alla famiglia e infatti ha lasciato un biglietto nella sua auto parcheggiata a pochi passi dal luogo da dove è salita secondo arco dell'acquedotto Carolino da cui si è lanciata nel vuoto un vero e proprio dramma quello che si è consumato nella mattinata di ieri a Valle di Maddaloni a togliersi la vita sabina 47 anni originaria di Santa Maria Capovettere residente a Caserta prima dell'estremo gesto la donna insegnante in una scuola elementare in via Feudo a Maddaloni ha lasciato un bigliettino chiamate mia sorella lasciando il nome e il recapito della sorella appunto poi è salita sull'acquedotto Carolino e là secondo le prime ricostruzioni si è lanciata nel vuoto insomma una perdita per tutti visto che comunque una vita che se ne va ma soprattutto spezzata da una decisione così clamorosa lascia tutti con la mare in bocca e soprattutto con la certezza di non aver fatto il possibile per ascoltare e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ed eccoci qua una buona notizia che viene proprio ancora una volta dai giovani un fiume azzurro migliaia di scout in marcia nel nome di Don Diana l'abbraccio alla madre del parroco ucciso alla camorra poi la messa celebrata dal cardinale Sepe domani ricorre il 25esimo anniversario dall'uccisione di questo prete e nel scorso fine settimana appunto gli scout hanno voluto ricordarlo con momenti di festa con momenti di workshop e soprattutto con la parola e infatti sono stati migliaia di scout da oltre 100 gruppi d'Italia a giungere proprio a Casal di Principe per dare il via alla marcia il ricordo di Don Peppe Diano ucciso la camorra il 19 marzo 1994 nella sagresia della chiesa di cui era parroco e ancora vediamo la Jessie Campania di cui anche Don Peppino Diano era esponente Campania ha ricordato Don Peppe nell'appuntamento il tuo sogno la nostra frontiera gli scout ma anche tantissimi cittadini hanno percorso numerose strade della città prima di fermarsi all'esterno dell'abitazione della mamma di Don Peppe un abbraccio caloroso all'anziana donna e poi tutti verso il cimitero che oggi ospita il parroco Anticamorra e con questa notizia che ci porta direttamente alla giornata di domani 19 marzo festa in cui si ricorda appunto San Giuseppe ma anche la morte e l'uccisione soprattutto per mano della camorra di questo prete noi terminiamo qui la rassegna stampa augurandoci che comunque si riesca a vincere questa tendenza e soprattutto a far forza sulla vita piuttosto che sulla morte per quanto riguarda la rassegna stampa anche per oggi è tutto vi lascio ai prossimi appuntamenti di Teleprima e come sempre vi ricordo che questo momento di informazione è offerto da Tecnocampus che ringraziamo a voi tutti anche va il mio grazie e soprattutto l'augurio di una meravigliosa giornata e buona settimana a tutti Grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti